Due giorni di teoria e di esercitazioni sul campo con Ernesto Nani, il notissimo tecnico di Atalanta e Brescia, noto per aver scoperto Pirlo ma non solo, che di calcio ne sa una più del diavolo. Due giorni a piedi monte per incontrare i tecnici e i ragazzi delle scuole calcio, per raccontare loro la vita del calciatore e per insegnare le regole e i segreti del calcio attraverso un suo particolare metodo che porta in giro per l'Italia. L'esercitazione è avvenuta attraverso una serie di attrezzi studiati e creati da lui stesso con i quali i ragazzi affinano la tecnica di imbarano l'arte del pallone. L'iniziativa, voluta dal procuratore federale Giovanni Di Caprio, ha riscosso molti consensi nell'impiente del calcio locale, che sperano di ripetere l'esperienza quanto prima. Dallo stadio Ferrante di Piedimonte Matese è tutto Lorenzo Applauso per casertasera.it